la gara. La fortuna non è stata sicuramente dalla loro parte e però anche loro hanno sbagliato. Che partita si è giocata oggi Luca? Le sconfitte in casa sono sempre molto difficili da digerire. Dopo lo svantaggio non ci hanno creduto più e non sono riusciti a recuperare. È tutto per questa sera. Un saluto e un ringraziamento da parte di Fabio Chiaressa e Luca Marchegiani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.